Amici miei, credo che il vincitore di oggi, con 17 punti, è il signor Belli mon frere e benvenuti in un nuovo video Oggi andremo a fare una mappa che al suo interno contiene più minigiochi Così da decretare il più forte, ma soprattutto chi si andrà a giudicare il regalo Vi dico, giusto per fomentarvi un pochettino, che chi ne uscirà con il titolo in mano Potrà ottenere un item, quello che vuole, all'interno del negozio oggetti Vediamo che cosa esce Zombie, no, zombie shoutout Ah beh Ok, dobbiamo sparare, hai vari zombie Oh Al volo Ok, sono primo, regà Ma siete delle pippe Il mio rivale è a due Ok Oh, chi è che me li frega sempre quelli in volo Buono, 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 buono Andiamo a vedere i punteggi Quattro punti Io cinque punti Cos'è questo? Aspetta, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo correre in cerchio Ah, ogni giro che facciamoci dà un punto, è vero Oh, no, la salita Vai, regà, io un punto Ok, ultimo passaggio per me Occhio Primo 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 A casa i polli Primo a casa i polli 20 secondi al termine di questa minimappa Cioè, mi lasciate vincere così? Ma, regà Ma Paolo ha fatto due punti Ma come hai fatto? Paolo ha fatto due punti Ma come hai fatto? Non mi hai superato a me Come hai fatto? Imbroglio Ma è un... Ma come hai fatto? Ma devi completare i giri È impossibile che mi hai superato A me non mi ha superato nessuno Pensa che ti ho creduto pure una volta Pensa che ti ho creduto pure una volta Pari 9-9 Color run? Dobbiamo totalizzare più mattonelle con il nostro colore Quindi io sono viola Per fare più mattonelle possibile di colore viola Vince chi colorà di più E quindi chi fa più punti? Oh, occhio per cui sono un animale Ecco ho preso il via Ecco ho preso il via Attenzione No 17 17 19 Ok onesto Vai 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 Regà mi raccomando non saltate Perché vedo qualcuno che salta Se saltate non vi danno i punti per terra No no 6 secondi Sono terzo Corri 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 Sono primo Regà ho intenzione di fare una strategia Vediamo se mi esce Sì primo Sì Sì Io sono a 14 Ho preso il via Voi quanti punti avete Regà? Paolo è a 12 0 1 Maiale un punto Che j quanti punti c'hai? Che j 3 punti Tra la test 7 Miz run No Bluff Miz run Official No è tipo il labirinto Doveva arrivare al centro Il primo possibile Oh mio dio Regà io Detesto i labirinti Non ci capisco mai niente Sento che mi sto avvicinando però Occhio mi sa che mi sto avvicinando davvero Puramente a caso No Qui ci sono delle porte aperte Ti hanno piazzato un muro davanti? Sì Ci ho fatto Come ce l'hai fatta? Ho vinto No Attenzione C'è che j che si riprende Vediamo che j Hai vinto E' finita E' finita? Ho già vinto? No Sono solo dei livelli? Allora dai Vi do un'altra possibilità Perché sono buono Vi do un'altra possibilità Perché sono buono Anche perché voglio fare La color switch Con le Con le baller Ah è una mappa a parte Ah è vero Questi sono tutti i codici Delle altre mappe Glider race Cos'è? Dobbiamo prendere le monete No Se non prendi perfettamente il cerchio Ti fa risponare dietro Ok ho preso la mia prima moneta Seconda moneta Occhio sono secondo No No 5 Mi ha superato che j Viscito di un Che j no 16 secondi Vabbè che j quota 6 Imprendibile ormai Imprendibile che j È volato È volato che j Ah Terza posizione Terza posizione Mi accontento dei miei due punti Mi accontento dei miei miseri due punti 5 punti Che j felice Con la voce di grande buffo l'ha detto 5 punti Andiamo a vedere quale sarà la prossima estrazione Attenzione Slipper race Slipper race Ah è quello di prima No vabbè Qui rega Occhio puntai su Paolo Soprattutto sulle hack Che utilizza Guardate È già cosa A 5 punti Paolo ho già 5 punti Rega Bene 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 Quella dove vince io Quando facciamo queste No Prendilo No Non mi dai pu Ah Bisogna prendere No 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 di nuovo No Di nuovo No Sono appena spawnato No la terza volta No ma dai Sto a morendere Che ha Nasca e muoio Come fa a fare i tuoi punti Ha fatto un giro e due punti Vabbè Paolo ha scoperto l'hack Occhio a che j No Un minuto Un secondo Non ce la fai No rega Io sto andando malissimo Questa volta Sono a due Mi accontento Che j ha 9 Il verme di che j Paolo è a 5 Vediamo se ci fa fare qualcosa di nuovo Oh carinissimo questo Allora rega Mi raccomando Dobbiamo correre intorno alle sedie Quando termina la musica Ci dobbiamo mettere seduti Tipo No Blef Occhio alla musica Ok Chi è morto? Io qui faccio vomitare Che è successo? Ma io ero sopra la sedia Io qui faccio Io qui sono un fenomeno Ve lo dico Eh io qui faccio abbastanza schifo Aia maiale Questo gioco non ha senso Io ero sopra la sedia No Oh Arrivederci Paolo No Sono sceso prima del tempo Rega Che pollo No La sfida È tra la gelatina Di maiale E il motociclista Di che j Maiale No 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 Che j Si è salvato Si è salvato che j Rega Eh Se vince che j È andato in volata Rega Non lo prendete più eh Se vince che j Se è andato Se vince maiale Ci sono ancora qualche speranza E le sedie Iniziano a diminuire Maiale Attentissimo Ci sono sempre Meno sedie Tutti gli sparti Sono per maiale Vediamo Se che j Riuscirà a fare il colpaccio No No Rischiano entrambi Rischiano entrambi Qui mi sa che si va per una sedia Qui mi sa che si va per una sedia Signori miei Attenzione Due player Due sedie Qui la sfida Si fa davvero ardua Io mi metto seduto A guardare lo spettacolo Attenzione Attenzione No Maiale No Maiale No C'hai illusi Maia C'hai illusi Attenzione signori Ultima mappa Non dovete far vincere Che j Impegnatevi al massimo Ah Qui il campione sono io Qui il campione sono io Col mio trucchetto Di prendere gli zombie Non mi spara Non mi spara No Rega non mi spara Non mi spara Che j Li hd che j Li hd che j Non mi spara No Vabbè dai Il gioco vuol far vincere Che j E niente Costretto a guardare Questa incredibile Scalation Paolo acqua da 4 Fra detta acqua da 3 Che j acqua da 3 Paolo acqua da 6 Come fa paolo a fare i doppi punti Rega qualcuno me lo può spiegare Grazie mille per il silenzio Andiamo a vedere Rega mi sa che qui Al fine dei giochi Abbiamo una persona A 17 punti Una persona a 12 punti Tutte le altre sotto Amici miei Credo che il vincitore di oggi Con 17 punti E' il signor KJ Si Attenzione Riesce la voce di grande buffo Come promesso Ci richiamo all'interno Del negozio oggetti Anzi ma prima Il campione in carica Vuoi dire qualcosa Che j Con questa vittoria Va bene Va bene Ok Bene Perfetto Parole sentite Parole ambide Parole dure Per il campione in carica Cosa vuole All'interno dello shop Signor KJ Prego Qualsiasi cosa Come qualsiasi cosa Hai una preferenza Si Cosa Ho una preferenza per Bruma Ah La signorina Bruma Molto molto bello Il primo stile Con questi capelli rosa Stupendi Compra come regalo Allora signor KJ Con il potere conferitomi Dal sacro Fortnite E dai mini giochi In creativa Io ti conferisco La signorina Bruma Complimenti a KJ Eroe Di questa Creativa Subito Se la va a mettere Gli sfidanti Vogliono dire qualcosa Al loro campione in carica Al vincitore Alla prossima volta Utilizzo le HP potenti